Oggi facciamo la tier list dei cimeli della community, quindi voti nella chat di Twitch, votate unirlo un malavolta e poi quando abbiamo fatto la tier list della community faccio anche la mia. Ho messo dentro tutto, ho messo dentro i cimeli e ho messo dentro anche le skin cimelio. Partiamo dal presupposto che i frammenti cimelio sono molto rari da trovare su Apex, quindi se hai la fortuna di averli, soprattutto se non ci hai speso soldi e magari sono i tuoi primi, pensaci bene prima di spenderli, ma soprattutto spendili per il cimelio della leggenda che più ti piace da giocare. Ecco, non basarti su una classifica a c***o trovata su YouTube. Detto ciò, in questo video trovate non una ma ben due classifiche a c***o dei cimeli, una fatta da me e una fatta dalla mia community su Twitch, entrambe aggiornate alla stagione 15 e al cimelio di Sir. Ragazzi, vi aspetto tutti i giorni su Twitch, link nei commenti, supportate il video, iscrivetevi per non perdervi i prossimi e se vi va commentate con il vostro cimelio preferito. Buona visione! Secondo me QNID Vrate tra TRS e TRA. È vero che è molto povero di animazioni, tipo non ha ispezioni complete, però sinceramente sti cazzi, perché tanto le ispezioni complete non le fai e le animazioni che ha, quelle automatiche ma anche lo spin che puoi fare tu, secondo me sono le più belle del gioco. Cioè, il fatto che non abbia ispezioni complete secondo me non lo penalizza perché chi c***o se ne frega delle ispezioni complete dell'airloom. Cioè, le fai una volta quando lo compri nel poligono per provarle, fine. Mai fatti ispezioni complete in partita in vita mia. TRS, onesto, onesto. Sì, poi vabbè, anche il fatto che sia stato il primo, semplice, pulito, sì, bello, bello, bello. No, ma proprio animazioni belle, pure quelle d'attacco ha un effetto bellissimo. Sono indeciso se dire la mia nel mentre che facciamo o alla fine, cioè probabilmente quando avremo finito io sistemerò la tier list facendo vedere come la farei io. Allora, sinceramente, secondo me, cimelio di Bloodhound, non voglio vedere dove lo state mettendo. Secondo me finirà stra in alto e secondo me, boh, c'è tipo uno dei cimeli più sopravvalutati. Cioè, secondo me è invecchiato stramale. Cioè, l'uscita era carino, era bello, secondo me è invecchiato stramale, non lo so. Cioè, ugualmeno a me è sceso un botto col passare del tempo. Non è brutto, per carità. Però, secondo me, in verità, a livello di animazioni e tutto il resto si poteva fare di più. E poi è una scelta piccola. Cioè, vista in terza persona, è quasi imbarazzante. In prima persona rende. Però in terza persona è quasi imbarazzante, piccolissima, cazzo. Sondaggio terminato tier B? Tier B con un voto in più del tier A? Unexpected. Cioè, io sincero me lo sarei aspettato tipo in tier S il cimelio di Bloody. Come si fa a segnare sul sondaggio? Figa, premi il sondaggio e vota. Secondo me il cimelio di Lifeline è, in generale, è stra poco apprezzato. Sì, il cimelio di Lifeline ha troppo poco di tutto. Non lo so, secondo me le animazioni rendono veramente poco. Secondo me è cimelio di Lifeline tier C? Onesto, cazzo. Non mi ricordo se ho scrinnato quello di Bloody. Cazzo. Qualcuno me l'ha scrinnato quello di Bloody. Grazie, Pink. Io ho scrinnato, sei un grande, Anto, sei un grande. Cimelio di Pat, secondo me, a livello di concept, è l'Hirlum più figo di tutti. Cioè, è veramente assurdo. Cioè, a livello di concept proprio il fatto che tutti i cimeli siano delle armi e poi invece hai il cimelio da box, spacca come concept, secondo me. Tier A, ci posso stare. Ah, non ha l'ispezione in corsa al cimelio di Pat. Ecco. Se avesse l'ispezione in corsa, che non ha, sarebbe, secondo me, da tier S, se avesse un'ispezione figa, però. Immaginati un'ispezione mentre corri che tipo fa così o altre cazzate, tipo le stronzate là che fanno i pugili nerd. Secondo me Octane idem. Cioè, come concept, è pazzesco, ma secondo me è stra penalizzato dal fatto che sia il concept di heirloom sfruttato peggio. Cioè, il fatto del cimelio di Octane è che è un fottuto coltello a farfalla. Ci sarebbero miliardi di trick che potresti fargli fare. E invece, per dire, per le ispezioni in corsa, gli hanno messo sempre la stessa, sempre lo stesso trick. Secondo me avrebbero potuto fare tranquillamente tipo tre o quattro trick diversi e quando facevi le ispezioni in corsa te ne facevo uno random, una cosa simile. Cioè, è proprio sfruttato male come concept, perché è un coltello a farfalla che ha miliardi di trick possibili e ne fa soltanto uno, tipo. Cioè, ne fa solo uno. Anche il discorso del perché non lo usa per le animazioni dell'abilità, tipo, sarebbe molto più figo se per l'abilità tattica utilizzasse il cimelio. Sarebbe una figata assurda. Octane tier S, ci posso star. Però, secondo me, appunto, se fosse stato sfruttato meglio sarebbe stato S+. No, contando che c'è Blood in tier B, insomma, è vero. Ma infatti dopo sistemo la mia. Secondo me, cimelio di Mirage... azzeccatissimo. Cioè, se c'era una leggenda che doveva avere un cimelio completamente meme, è Mirage. Secondo me hanno fatto benissimo, è stupendo. Secondo me è veramente figo. Cioè, il fatto che il cimelio di Mirage sia una statuetta d'oro che rappresenta Mirage è veramente una figata. Tier A con 19 voti? Un voto sopra il tier D si gode. Sì, non bello da tier S. Cioè, secondo me è bello da tier A, sì. Caustic, secondo me, è fighissimo il concept sempre, perché il fatto che abbia un martellone è bellissimo. Cioè, Caustic è proprio la leggenda che figa ti prende... ti prende a martellate il cranio. È figo. A livello di animazioni, non in corsa, perché non ha l'animazione in corsa, quello di Caustic, ma di animazioni degli attacchi proprio, secondo me è l'airloom più bello. Cioè, le animazioni d'attacco, quando colpisci che dal martello esce il gas, è pauroso. Secondo me ha le animazioni d'attacco migliori di tutti. Se la gioca forse con Revenant anche, però, bellissimo quello di Caustic. L'unica cosa è che... sempre stesso discorso di Bloody. Cioè, secondo me è troppo piccolo il martello. Sì che ce l'ha spin al martello, gliel'hanno data dopo? Cioè, l'hanno patchato, gliel'hanno data, perché all'inizio non ce l'aveva. Ma forse mi ricordo, è vero, che a Caustic alla fine l'animazione in corsa l'hanno data e manca solo... e manca solo patto ora con l'animazione in corsa. È vero, allora ha pure l'animazione in corsa. Caustic tier A con un botto di voti anche per il TRS. Secondo me tier A tutta la vita. Cioè, non... no, TRS tutta la vita, scusa. Cioè, non può essere Octane in S e Caustic in A. È bello, ma se fosse stato più grosso sarebbe stato meglio. Frase che puoi adottare sia per descrivere i cimeli che in altre situazioni. È veramente... fosse stato tipo un mega martellone, figa, sarebbe stato spaziale. Secondo me... Ascia di Gibraltar... Eirlum mid. Cioè, non so, non mi piace, ma riconosco che non faccia schifo. Però non ha mai conquistato il mio cuore, cioè non... Boh! È un'ascia infuocata. Perché? Tipo il cimelio di Octane è molto caratteristico, è il cazzo di coltellino a farfalla con dentro il liquido stimolante di Octane. Il martello di Caustic, figa, è un martellone che rilascia il gas di Caustic. L'Eirlum di Gibraltar, figa, è un'ascia infuocata. Perché? TierD! Onesto. Grandi raga. Il cimelio di Gibraltar ha un'animazione che mi piace, ed è quando lo tira fuori e lo sbatte sullo scudo e fa tipo... Tum, tum! L'unica cosa. Cioè, è tipo l'unica cosa che mi piace. Si illumina il buio, è vero. Sì, si illumina il buio. Pare tipo su Minecraft quando ti metti la torcia in mano. Cimelio di Bangalore. Allora, secondo me, idea bruttissima. Cioè, tipo, a livello di concept, l'Eirlum peggiore. Cioè, secondo me, proprio a livello di concept, l'Eirlum di Bangalore è il peggiore, perché, figa, sembra veramente che non avessero idea di cosa fare, e abbiano detto, vabbè, figa, facciamo due coltelli. Però le animazioni sono top. Secondo me sono strabelle le animazioni sue. È un militare con un coltello da guerra. Sì, vabbè, figa, dai. TierB onesto. Secondo me è TierB onesto, sì. Revenant, secondo me, non è sopravvalutato. Cioè, è proprio troppo figo. Sia le animazioni che quando attacchi fa il silenzio di Revenant, ma poi proprio le animazioni tipo di ispezione, quando ci passa il dito sopra e il cimelio tutto si scompone, si allunga, poi si ricompone. Secondo me è veramente figo. È una cazzo di falce. No, TierS non è da fanboy. TierS è onesto e non metterlo in TierS è da edgy del cazzo, sinceramente. Cioè, se non lo metti in TierS, secondo me, è per fare le edgy l'alternativo. TierS più schiacciante di tutti quelli finora. Anzi, proprio voto più schiacciante. Cioè, dai, non ci sono cazzi. No, secondo me Revenant non è mai TierA. È troppo, troppo bello. Fa poi del cazzo qui la messi in S. Figa, il 99% della community. Il fatto che il cimelio di Revenant matchi male con le altre skin è un problema comune a tutti i fottuti cimeli. Oddio, a tutti no, ma diciamo dal cimelio di Revenant in poi. Perché dal cimelio di Revenant in poi ci sono andati pesanti con l'abbinamento di colori skin standard cimelio. Cioè, per dire, anche il cimelio di Valkyrie matcha solo con la skin base di Valkyrie. Il cimelio di Crypto matcha solo con la skin base di Crypto. Il cimelio di Seer non matcha solo con la skin base, ma soprattutto con la skin base. Mentre quelli prima erano un po' più neutri, tipo Wraith, Bloody. Secondo me il cimelio di Rampart è strano. Cioè, alla fine cos'è? Una chiave inglese porta ciui in gamme elettrica, praticamente? È stranissimo, però boh, mi piace. Mentre poi c'è il cimelio di Watson che è stranissimo e mi fa semplicemente cagare. Mentre secondo me il cimelio di Rampart a livello di animazioni e tutto il resto è figo. Tier B 20 voti. Ci sta, secondo me ci sta. Sì, secondo me Rampart Tier B ci sta, cioè non l'avrei messa più in alto, neanche più in basso. Cioè, non è niente di pazzesco, secondo me, non è comparabile ai più belli. Watson si può schippare la votazione. Diciamo il pregio dell'heerloom di Watson, via. L'animazione in cui le sta per cadere e lo riprende su è veramente bella. Tutto il resto sono difetti. Orribili, spregevoli ed enormi difetti. Le animazioni sono belle. Solito discorso che faccio sempre sul cimelio di Watson. Prendi 10.000 giocatori, chiedi a questi 10.000 giocatori se gli va bene questo cimelio di Watson o se avrebbero preferito un fottuto pupazzo di Nessie al suo posto. Su 10.000 giocatori 9.999 ti risponderanno figa molto meglio un pupazzo di Nessie. Cioè, il Nessie che lei ha nell'animazione con questo cimelio dovrebbe essere il suo heirloom e fine. Sarebbe stra-bello. Tipo, camminare per la mappa, il cimelio di Watson è un pupazzo di Nessie con cui cammini tenendolo in braccio. Figa, bellissimo sarebbe. E invece hanno voluto fare un lettore di carte di credito, misto Tamagotchi, misto ventilatore portatile. Watson Tirdy. Come solo 51%? Oh, vabbè ma quelli che hanno votato TRS l'hanno fatto per il meme. Cioè, io quando giravano i primi leak di questa roba, figa, pensavo fosse un meme, non ci volevo credere. Cimelio di Crypto insieme al cimelio di Valkyrie, cimelio che mi ha più deluso. Veramente deluso. Cioè, dal trailer, dai primi leak, dal fatto che fosse una cazzo di spada, non dico katana, se no vi ingazzate e mi dite il cazzo di nome coreano di questa spada, ok, non mi importa. E però mi ha deluso perché in game, secondo me, rende poco. Però comunque non è terribile, cioè, l'unica cosa è l'animazione della corsa, sì. Però non è così terribile, cioè, se me lo aspettavo da TRS, è proprio secondo me al limite, limite da TRA. Cioè, non è che mi ha deluso nel senso che figa è da TRC o TRD, secondo me. Ma deluso nel senso che mi aspettavo tipo il cimelio più bello di tutti. Secondo me il più bello di tutti non è perché non è perfetto sotto tutti i punti di vista, però TRA, infatti. TRA 48%, secondo me è onesto. Sì, l'animazione di corsa è brutta, secondo me è brutta. Poi sti cazzi del fatto che sia... che rispetti sta cazzo di spada perché quelli che la usano corrono così, non mi frega una sega, cioè è brutta, è vero. Allora, il cimelio di Valkyrie, a parte il fatto che, secondo me, i colori siano veramente orribili. È vero che ormai tutti i cimelli li fanno matchati alla skin di base, tipo Crypto riprendi i colori della skin di base, Revenant pure. Però, non lo so, cioè... il fatto è che veramente pare una lancia giocattolo. Cioè, farla così e farla arancione e bianca con i colori della skin di base, poi sembra tutta plasticosa, cioè pare veramente una lancia giocattolo. Ma non è questo il problema principale. Secondo me il problema principale sono le animazioni. Cioè, secondo me in game rende veramente male le animazioni automatiche e tutto il resto. Sarà anche il fatto che con Valkyrie saltelli, voli e roba varia, quindi sarebbe stato difficile fare un heirloom adatto. Però, boh, cioè non mi piace proprio come rende. Non mi piace come rende in game, quando tipo inizia a volare, che si glitcha tutto e cazzi vari. Tierra è onesto, perché comunque è figo. È figo. Stesso problema di Crypto, secondo me. Cioè, aspettative top, poi non mi ha soddisfatto al 100%, diciamo. Ventaglio di Loba, sì, secondo me TRS senza discussioni, cimelio più bello degli ultimi usciti. Cioè, oddio, in verità guarda che anche quello di Sir mi è piaciuto molto, ma secondo me cimelio di Loba se la gioca per essere proprio il più bello del gioco. Secondo me è bellissimo, cioè tutto. A parte il concept è figo il fatto che sia il ventaglio, secondo me è bellissimo. Ma poi a livello di animazioni in game, secondo me è proprio il cimelio più soddisfacente. Almeno per me. Cioè, proprio il rumore che fanno le sue animazioni, cioè che fa il rumore del ventaglio proprio è bellissimo, secondo me. Cioè, da giocare, da spinnare, secondo me è tipo il più soddisfacente a livello acustico. E poi è figo, secondo me è veramente bello. L'unica cosa che non mi fa impazzire sono le animazioni d'attacco. Perché ne ha di belle, ma tipo quelle in cui attacca tenendo chiuso il ventaglio non mi fanno impazzire. Però, vabbè, è proprio unico difettino, per il resto secondo me è bello. TRS 63%. Oddio, forse vittoria un po' meno schiacciante di quello di Revenant, però... E poi, figa! È per l'ova! È per l'ova! Leggenda migliore del gioco! Ultimo cimelio. Cioè, ultimo oggetto cimelio. Poi abbiamo le skin. Ho visto un po' di negatività in giro io, verso il cimelio di Seer. Secondo me, molto bello. Secondo me è molto bello. Non so se è da TRS al pari degli altri, però, boh, penso di sì, non lo so. Vediamo dove lo mettete voi, poi io mi adeguo. TRS 44%. Onesto, sì, secondo me è da TRS, sì. Cioè, guardando gli altri, secondo me sì. Il Butterfly Stone è in esse. Ma questa è la tier list community, poi faccio la mia. Cioè, poi la sistemo e dico come la farei io. Mancano le tre skin cimelio. E boh, ci ho riflettuto se metterle in tier list insieme agli oggetti. Ma secondo me sì, perché alla fine, cioè, se uno ha i materiali frammento, ci puoi comprare sia gli oggetti che le skin. Quindi, secondo me, ha senso metterle in tier list insieme. Perché alla fine si comprano con le stesse monete, diciamo, quindi. Io premetto che le skin cimelio non le prenderei tipo mai. Cioè, io, anche se fossi per dire main Vraith, diciamo, con solo il kunai di Vraith e trovassi altri frammenti cimelio, non li spenderei mai nella vita per la skin cimelio di Vraith. Secondo me non è worth mai proprio. Cioè, piuttosto mi prenderei l'heirloom per la mia seconda leggenda preferita. Oppure anche solo un heirloom che mi piace, tipo quello di Loba. Sia perché il gioco è in prima persona e di fatto non la vedi, tranne quando landi, quando fai esecution ai cazzi vari, ma anche perché sono proprio una delusione le skin cimelio, cioè, non ha senso. Sono skin leggendarie, cioè, è tipo tre skin leggendarie insieme alla fine. Con l'esecution speciale che chi cazzo se ne frega. Però non, secondo me, dovevano fare di più skin cimelio. Potevano fare, magari farle animate, del tipo che proprio in prima persona vedevi le braccia animate. Oppure fare che si evolvessero in partita, magari facendo kill, anche sarebbe stato interessante, barra figo. Però, per come sono, big no. La skin cimelio di Bloody, io la reputo la skin cimelio più brutta delle tre, probabilmente. Probabilmente. Skin di Bloodhound tier C, secondo me è onesto, cioè... Ma in verità no, è vero, perché non la reputo più bella del cimelio di Watson. Cioè, io sincero, cioè, se io fossi non Main Bloody e non Main Watson e non avessi nessuno dei due, prenderei prima comunque il cimelio di Watson, ma proprio tutta la vita senza dubbi. Sì, cioè, secondo me, messi in questa tier list, le skin cimelio sarebbero tipo tutte e tre insieme da tiere. Cioè, non ha senso il fatto che costino 160 euro e siano di fatto tre skin da 20 euro unite. No, la skin di Benga, secondo me, non lo so, a me piace di più quella di Benga di quello di Bloody. Quella di Bloody a me non piace proprio, cioè, secondo me è proprio brutto il livello finale, tutta arancione, non mi piace. Quella di Benga allora ancora ancora. Io reputo più bella quella di Benga che quella di Bloody, cioè quella di Bloody mi fa proprio cagare. Secondo me skin break, per come abbiamo votato queste, sarebbe onesto tier B. Secondo me break in tier B è perfetto, perché le tre skin cimelio le si mette nei posti più bassi della classifica, come è giusto che sia, perché fanno cagare proprio come concept. Si parte dal tier D, tier C, e la più bella la si mette in tier B. Detto ciò, io swap però, penso, venga lo Rebloodhound. Quindi questa è la tier list finale della community dei cimeli. Diciamo che a grandi linee concordo, però sì, cioè, ci sono delle cose che adesso sistemo. Con ordine, primo cambiamento che faccio io nella mia, sicuro cimelio di Octane tier A. Secondo me non è mai da esse, è molto figo, però appunto potevano fare qualcosa di più. Cioè, secondo me è veramente sfruttato male come concept, e, boh, cioè, secondo me non se la gioca mai, né con Loba, né con Revenant, però alto tier A. Cioè, secondo me Octane, alto tier A. Probabilmente il Caustic lo metterei in tier S. Cioè, unica critica che ho su Caustic è che più grosso sarebbe stato meglio. Gli altri in tier S li lascerei. Cioè, il Kunai di Wraith, secondo me a livello di animazioni semplici, spin e roba varia, è il più pulito e il più bello. Revenant tier S tutta la vita, Loba tier S tutta la vita. Caustic, secondo me tier S è onesto. Oddio Caustic, però, tra quelli in tier S forse è quello che mi piace di meno, non lo so. Però Caustic tier S secondo me ci sta. E Sir, in verità, sono indeciso. Ho paura di essere influenzato dal fatto che è uscito da poco. Lo abbasso in tier A, quello di Sir, sì. Sì. È molto bello, molto alto tier A. Sopra quello di Octane, per dire. Cioè, tier A altissimo. Però, secondo me, è sotto agli altri che ho messo in S. La copiata Crypto e Valkyrie la lascerò in tier A perché mi hanno deluso. Cioè, sono molto belli, ma io mi sarei aspettato molto di più. Cioè, ma un po' deluso come random in game. Secondo me tier A ci sta. E poi pure la community le ha votate in tier A, quindi non rompetemi il cazzo. Guantoni di Pat, tier A o tier B. Facciamo basso tier A per ora. Li metto anche in ordine proprio all'interno dei gradi. Metterei Revenant, tipo al primo posto, a pari merito con Loba. Poi Kunai di Vreit. E poi Martellone di Caustic. Qua probabilmente al primo posto Seer nel tier A, poi Octane. Poi la copiata Crypto-Valkyrie, forse prima Valkyrie, ma non lo so, in verità pari merito. Mirage e Pathfinder. L'Ascia di Bloody forse la promuovo in tier A. Non lo so perché la preferisco alla roba che sta in tier B, credo. Cioè l'ho flammata, però in verità preferisco l'Ascia decisamente, sia il cimelio di Benga, sia il cimelio di Rampart. Però, mettendolo in tier A, la facecam lo copre, figa. Brutto da vedere. Probabilmente potrei fare tipo così. Cioè, guantoni più in basso e blodina. Detto ciò, tier list soggettiva, ma a parte che è soggettiva è proprio molto, molto dettata dal cazzo che mi gira. Cioè, se la facessi domani la farei diversa, probabilmente. Non è vero, ok, ok, ultimo aggiustamento che dovevo fare alla mia. Avevo detto, io preferisco quella di Benga, allora quella di Bloody. Quindi, così, questa è la mia pazza tier list finale. Ragazzi, se volete partecipare e esprimere il vostro voto nelle prossime tier list, vi aspetto tutti i giorni in live su Twitch. Vi ringrazio per la visione, se il video vi è piaciuto supportatelo. E noi ci becchiamo, a parte su Twitch, come vi ho detto tutti i giorni, tutte le sere su YouTube alle 18 con un nuovo video. Quindi, iscrivetevi per non perderveli. Buona serata.